La Dottoressa Archer L'ultimo camice bianco a sparire è stato il Dottor Gutierrez Le invio le sue ultime coordinate note Ricevuto James dove sei? Sto cercando un certo Dottor Gutierrez, lavorava per la Archer Se lo trovo potrò arrivare anche a lei E magari scoprire di più su questo progetto White Light Cielos, fai attento James Mercer è ancora in circolazione Non penso che gli piaceranno queste interferenze con i suoi piani Non ho paura di lui Oh merda Ehi, ehi, tutto bene? Ehi, ancora, ancora Ora sì che ci siamo Così si fa Merda, dove è andato? Cazzo Quello stronzo l'ha fatto solo per distrarmi James, hai trovato Gutierrez? Forse Sto inseguendo un altro dei seguaci di Mercer A dopo Troppo lento Ehi, ancora, ancora Non ho ancora finito Non ho ancora finito Aspetta, fermo Ti, ti darò dei soldi Ok, dunque Sapete di dover prendere ogni precauzione possibile per questo, giusto? Giusto? Harry, questo è un messaggio del dottor Koenig e della dottoressa Archer Sai bene cosa significa? Credi che rischierò di deludere Alex Mercer? Bene, bene Ora consegnalo alla base Adams Non perdere tempo Era lui? No, ma stava portando un messaggio della dottoressa Archer a qualcuno nella base Adams Vediamo se quel qualcuno è Gutierrez Dunque, l'amichetto dell'Archer Archer si nasconde qui Devo farlo uscire Un soldato esploso dovrebbe funzionare Non credo che funzionerà se mi vedono Barca puttana, cosa diavolo era quello? Eller, non troverai mai la dottoressa Archer La tua ricerca finisce qui Oh, Red Crown, qui Radler 6-1 Ho dei nemici infetti alla base Adams Oh cazzo, il Sarcette L Ho il Sarcette Trenceller alla base Adams Dragon, qui Red Crown Preferite le truppe della base Charlie e della base Eco alla base Adams Passo Dove è l'Archer? Sul serio, trucco! Dottor Gutierrez, è sicuro che l'effetto si propagherà? Anche solo un piccolo campione introdotto in una grossa cavia faciliterà la conversione Archer vuole l'esatto processo E farà davvero questa cosa? Ciò che ha descritto? Stia tranquillo Non appena realiterà il collegamento Mercer controllerà ogni goccia di white light esistente Fino a livello molecolare Ok, al diavolo questa roba Troverò Gutierrez e gli chiederò cortesemente cosa sta combinando Mercer con questo white light Padre, raggiungerò Gutierrez tra poco Fai fretta, James Se lavora al progetto white light avrà una scorta Gli eserimenti sono la nostra scelta E la scelta Gli eserimenti sono la scelta Oh, no. 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 Oh, no.